Torna anche quest'anno con un programma vasto, un centinaio di iniziative promosse fino al 5 aprile, la rassegna Marzodonna organizzata dal Comune con il contributo di artisti, enti e associazioni. Lo Sguardo delle Donne è il titolo scelto per il calendario di eventi che interpretano il mondo femminile nell'ottica dell'inclusione. Per un mese si alterneranno mostre fotografiche, pittoriche, eventi sportivi, presentazioni di libri, percorsi di benessere e salute, spettacoli teatrali ed iniziative in difesa dei diritti delle donne. Marzodonna di quest'anno si chiama Lo Sguardo delle Donne ed è stata una modalità di stimolare le donne a far venire fuori la nostra modalità di interpretare la realtà e di intervenire. Per cui ci sono state più di 90 proposte che vanno dal mondo della cultura allo sport a proposte politiche, più altre che abbiamo fatto noi come assessorato ed altre ancora fatte in collaborazione con altri assessorati. Veramente in questa rassegna c'è proprio il femminile in tutte le sue articolazioni, dallo sguardo politico, imprenditoriale, allo sport, all'attenzione, al benessere. Insomma viene fuori la capacità delle donne di intervenire nella realtà e soprattutto di dare uno sguardo altro il diritto alla diversità.